Il terzo unboxing, un tri-boxing, sigla. Lo sapete, questi sono video che faccio fuori orario, fuori programmazione, quindi montaggio rapido. Insomma, video un po' casalinghi perché l'importante è divertirsi e adesso apro questa prima scatola di libri e vediamo cosa c'è dentro. Non mi sono organizzato neanche col solito sgabello perché non mi sono organizzato neanche col solito sgabello. Questa non la taglio perché ho girato altri due video e quindi ho un po' di fretta. Vediamo un po' cosa c'è in questo nuovo arrivo. John Fante chiede alla polvere, un titolo più che famoso, non l'ho mai letto, se ne parla bene, se ne parla male, sono molto curioso. L'ha riportato alla ribalta il mio adorato Chas Bukowski, quindi ho delle garanzie su questo libro. Vittorio Giardino, tra romanzo e regia, un libricino minuscolo, che però è un mini saggio che trovo interessante perché adoro Vittorio Giardino. Mi sembra che siano soprattutto immagini. È comunque un acquisto, vi dirò, magari vi farò un breve video su questo. Magari non sarà niente di eccezionale, ma io adoro Giardino, mi manca solo Jonas Fink, che poi avrò probabilmente quasi tutti i suoi lavori. Ma un grandissimo giardino. Ho fatto il video su Rapsodia in blu, guardatevelo perché magari vi apre un mondo. Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa di Tabucchi. Tabucchi è il più grosso studioso italiano sicuramente, ma probabilmente a livello europeo, di Fernando Pessoa. Questo è un libro che ho inseguito per tantissimo tempo. Sono andato in Portogallo da poco. Qua vedete questa rondine che è il simbolo della migrazione, perché i portoghesi, il Brasile, sapete, sono stati marinai, quindi andavano lontani, ma poi come le rondini tornavano a casa. Essendo esule anch'io, ho espatriato anch'io, mi sono comprato la rondine in Portogallo. Comunque, un altro libro fantastico della Sellerio, Sellerio che ha pubblicato tantissimi di Tabucchi. Io ne ho tanti, un giorno vi farò fare magari una bella passeggiata nella mia libreria dove ci sono i Sellerio che non sono qua, tranne i Colin Dexter perché li voglio vicino a me, ma là ci sono i Camilleri e tutto il resto. Noti di dicembre, racconti di Natale. Questa è una serie di racconti, non su commissione, ma credo che sia proprio una raccolta di racconti. Vedete Pascoli, Pirandello, Molineri, Marchesa Colombi, Di Giacomo, Fleres, Fogazzaro, De Marchi, De Amicis, insomma, le solite raccolte come quella sui racconti gialli dell'Eleri Queen, Mystery Magazine, di cui ho girato il video poco fa, ma chissà quando uscirà. Quindi ancora Sellerio, scusatemi, io sembro uno che sta sponsorizzando la Sellerio per qualche motivo, ma è inutile, ci trovo troppe cose soprattutto nel libraccio, nell'usato, questi sono acquisti chiaramente del libraccio. Francesco Recami, il ragazzo che leggeva Maigret, il titolo chiaramente mi incuriosisce di brutto, come quello di Shasha, il giallo secondo Maigret è un saggio, lo stesso sulla letteratura gialla scritta da Shasha che ancora devo leggere, questo di Recami mi incuriosisce parecchio. Un altro Sellerio, di Recami vi ho parlato in un video dedicato appunto quando è uscita la serie su Recami, sul personaggio di Recami, ma comunque lo leggerò perché Recami è uno che mi, scusate, no, di Recami no, la casa di Ringhiera, stavo confondendo. Mi incuriosisce molto perché Recami un po' lo amo, un po' lo odio, come scrive, vi ho parlato di Recami del Correttore di Bozze, che è un grandissimo libro, quello cercatelo, recuperatelo e leggetelo perché è veramente un bellissimo libro. E credo che l'uomo, questo romanzo di cui vi ho parlato adesso, appartenga a quella serie, non vorrei dire una fesseria ma mi sembra che sia così. Niente, Orchidee per Miss Blendish di James Hadley Chase. Quello che mancava, vi ho detto che li ho comprati della Feltrina e gli usati, finalmente ho trovato questo della Polillo Editore che sta recuperando moltissimi dei titoli del Giallo Mondadori, che furono del Giallo Mondadori, li riedita, li ritraduce, li ripubblica, purtroppo la Polillo è in bruttissime acque editoriali, se so, è due anni che non funziona, se mi ricordo bene. Comunque volevo comprare anche L'ospite Invisibile, di cui vi ho parlato, è una sorta di lantesignano dei Dieci Piccoli Indiani, ma purtroppo non l'ho ancora trovato, ma lo cerco e quando lo troverò lo comprerò. Spero di trovarlo in questa edizione della Polillo. Niente, Orchidee per Miss Blendish, questo è un romanzo che porterò di certo qui sul canale. Fenoglio, Il Partigiano Johnny, un altro libro che non ho mai letto, un caposaldo, un vero capolavoro della letteratura italiana, scritto con parti in inglese, scritto con una narrativa, anche questa molto molto particolare, un libro che va letto, va saputo leggere, va apprezzato, non è forse un libro per tutti, qua addirittura c'è un vecchio segnalibro lasciato dal vecchio autore, chissà cosa ci trovo in questi libri usati, cosa ci troverò. 5,50 euro, è un libro che pensavo fosse più breve, veramente da come me l'ero immaginato, ne parlano benissimo tutti, da baricco in giù, quindi, e comunque appartiene alla letteratura italiana, ma Fenoglio viene celebrato come un grandissimo autore, quindi, sono molto curioso, non so quando lo leggerò, perché questo è uno dei classici libri che devono aspettare il suo momento, però, insomma, è bene avere in libreria un libro così come il Partigiano, come Chiedi alla Polvere. Il labirinto delle ombre, un libro che mi è stato consigliato da qualcuno di voi qua nei commenti, caldeggiato moltissimo, siccome, visto che vi piacciono i libri che piacciono a me, qualche volta se mi caldeggiate e mi consigliate così tanto un libro, io ci casco e mi fido. Remigius Mros, confesso che è un nome che non avevo mai sentito prima che me lo segnalaste qua sotto i miei video, e mi incuriosisce veramente molto. Edito da Thea, un carattere abbastanza, un font abbastanza leggibile, largo, agevole, un 350 pagine sarà una lettura abbastanza facile, non è un mattone, voglio dire, è un libro che mi incuriosisce molto e che leggerò sicuramente, perché veramente siete riusciti a incuriosirmi. Leonardo Sciascia, per concludere l'arrivo di questo primo pacco, c'è non altro che aspetta ancora, Leonardo Sciascia, fatti diversi di storia letteraria e civile. Non ho idea di cosa sia, era un romanzo usato di Sciascia, sei euro, Sellerio, in questo formato che è simile a quello appunto di racconti gialli di cui vi ho parlato, della raccolta di Denei e Lee, e questo è del 1989. insomma, questo penso sia qualcosa che ha a che fare con la storia della Sicilia, la letteratura della Sicilia, mi incuriosisce molto, non so cosa sia, francamente, semmai lo leggerò intero, voglio dire, uno sguardo gli rodo sicuramente i libri che compro, ve ne parlerò, vediamo, vediamo di cosa si tratta. Ma adesso mi tocca aprire la seconda scatola, eccola qua, ancora il mio tagliacarte rosso, ragazzi non faccio tagli perché qua questo video, adesso cerco di editarlo adesso e di pubblicarlo già adesso, stanotte, anche se sono veramente a pezzi, ho avuto una settimana veramente pesante, come vi dicevo, ma anzi bevo anche un po' d'acqua che mi sto asciugando. Ma ho questi pacchi che sono fermi qua da più di una settimana, non mi ricordo cosa è arrivato, me ne stanno arrivando altri di libri perché ne ho comprato altri, con la scusa del canale mi sto permettendo di comprarmi libri, che è una cosa che non facevo da un sacco di tempo e siccome il libraccio, sostanzialmente sto spendendo meno che comprare gli originali da Amazon, quindi me lo permetto. Allora, questa è una cosa di cui vi parlerò dopo, che non ha neanche così tanta importanza, ma ha importanza per me. Alfredo Panzini, grammatica italiana, non ho ieri di cosa sia, mi piaceva il titolo. L'ho preso, mi sembra una buona cosa. E infine, ecco, questo è un libro che sto inseguendo da tanto, l'ho pagato probabilmente troppo rispetto a quello che è un saggio, un articolo di giornale sostanzialmente, che è stato proposto sotto forma di libro, ma è uno di quei libricini, una di quelle cose che a me interessa. Questo è un libro che volevo avere, ho cercato di leggerlo per tantissimo tempo, non sono mai riuscito a trovare in libreria, ho deciso finalmente di comprarlo in questa spedizione di libri, ed è Umberto Eco, il fascismo eterno. Io adesso mi sto finendo di leggere La morte della pizze insieme a questo, vi ho detto Il giardino segreto, non so se ve l'ho detto, ma questo saggio Il fascismo eterno di Umberto Eco me lo devo leggere per forza, chiaramente Della nave di Teseo, inutile anche discutere su questo. E infine vi faccio vedere qual era l'altro libro. grosso che è arrivato nella scatola, nel pacco. Il Marcello Sensini con metodo, una grammatica italiana, un metodo di storia della lingua italiana, perché? Perché le mie bambine, vivendo in Svezia, stanno imparando lo svedese, che non ha sostanzialmente basi grammaticali e non le insegnano, non sanno niente, e l'italiano lo parla, non lo scrivono anche benino, poverine, per quel poco che si esercitano, anche se leggono comunque tutte e due, mi fa piacere, ma in qualche modo dovrò trovare degli spazi per dedicarmi a loro e per fare un minimo di basi di grammatica di italiano, perché è inutile sapere una lingua se poi non si conosce un minimo, la struttura, la grammatica, la roccia su cui si basano le fondamenta di questa costruzione, quindi cercherò di fare un po' le cose essenziali di grammatica italiana, mi è stato consigliato questo libro che pare sia un buon testo di grammatica, l'ho trovato usato, ci sono dei testi di corollario, ma insomma sono cose scolastiche, non penso che ne freghi niente a nessuno, ve lo dico solo perché è una cosa che vorrei cercare di fare per le mie figlie, quindi diciamo che questo tree boxing, lo chiudo qua, scusate il montaggio, scusate le luci, scusate l'audio un po' disturbato per le scatole che avevo in braccio, ma comunque spero di avervi incuriosito ancora una volta, qua ecco vi volevo dire un regalo di mia moglie, Sherlock Holmes, ferma libri, dove qua metto i libri che, dovrò leggere i libri che voglio avere a portata di mano qua nella mia libreria, vicini alla mia postazione dove scrivo, dove sono comunque dopo il computer, quindi è arrivato Sherlock qua nella libreria di Casa Pinna. Grazie per essere arrivati qui in fondo a questo terzo unboxing di questi video estemporanei che metto così, insomma, per farvi compagnia e per farmi fare compagnia da voi mentre guardo e scopro quali sono i libri che ho ordinato, perché a volte alcuni arrivano, altri non arrivano, di alcuni mi sono dimenticato di aver fatto l'ordine, ma comunque, come si dice, un libro è sempre meglio averlo e non leggerlo che non averlo. Grazie a tutti, buonanotte.